Tra russi, ucraini e moldavi sono circa 7.000 nella città metropolitana i fedeli ortodossi della chiesa di Mosca. Eppure, diversamente da altre confessioni religiose, non hanno un posto loro dove pregare. Da una quindicina d'anni sono ospiti del patriarcato nella chiesa veneziana di San San de Gola. Una situazione di precarietà da cui gli ortodossi vorrebbero uscire. Si sono quindi rivolti al comune di Venezia, che dopo una lunga attesa ha risposto con un secco di niego. Noi abbiamo chiesto una concessione del terreno come semplicemente il comune ha dato ai nostri confratelli romeni oppure come ha dato per esempio ai nostri confratelli greci una chiesa intera all'uso. Quindi semplicemente qualcosa per andare incontro alla comunità. La Russia, ricorda religioso, è una delle nazioni che contribuiscono maggiormente all'economia di Venezia. Ogni anno arrivano decine di migliaia di turisti, ma anche imprenditori che collaborano con aziende e istituzioni locali. Queste persone hanno bisogno di un luogo dove potersi raccogliere e dire una preghiera. Sembrava anche logico fare questo passo perché noi non chiediamo tanto, non vogliamo che ci sia costruita per noi una chiesa, ma vogliamo una apertura, una maggiore apertura da parte delle autorità che dicono, che sembrano, vogliono collaborare con le autorità russe. Lunedì a Venezia saranno presenti alcuni esponenti del comune di Mosca, conclude. Ci auguriamo che le continue dichiarazioni di amicizia e volontà di collaborazione si traducano in atti concreti. Soprattutto adesso, nell'imminente visita della delegazione del governo di Mosca, ci sembra giusto segnalare ancora che siamo in questa situazione, non dico disperata, ma una situazione ovviamente di grande scomodità. Soprattutto adesso,